Taglia in difesa della sanità sul territorio che coinvolge amministratori, comitati e cittadini. Ciò che resta dell'ospedale Vietri di Larino e l'ospedale Santimoteo di Termoli. 11 sindaci del Basso Molise hanno manifestato davanti alla struttura sanitaria frentana per rivendicare il diritto alla salute e chiedere un incontro urgente al presidente della regione Paolo Frattura. Chiediamo una valorizzazione dell'eccellenza del Vietri. Penso alla camera iperbarica, penso all'oculistica, ai tanti servizi che possono essere fatti dal Vietri e che in passato sono stati fatti. Era punto di riferimento ad esempio per la riabilitazione con l'OMA Augeri. Il Vietri può tornare a fare questo e dare servizi ai molisani tutti, non solo a quelli del Basso Molise. All'iniziativa che segue un incontro organizzato nei giorni scorsi sempre a Larino hanno partecipato i rappresentanti dei due comitati nati in difesa degli ospedali, operatori sanitari e cittadini. La proposta di riordino non piace e non convince per un territorio è stato ribadito che continua ad essere penalizzato. Oggi come oggi noi siamo irritati, è un'espressione che uso così in maniera dolce, ma arrabbiati sarebbe ancora meglio, per il fatto che abbiamo visto un presidente della regione che rimane incapace di dare risposte soprattutto, ma anche incapace di affrontare la popolazione che reclama un incontro ai fini di una migliore situazione per quanto riguarda l'assistenza e i livelli essenziali di assistenza. Il problema resta in un'area che deve fare ancora i conti con la ricostruzione post-terremoto. Possiamo dire che abbiamo buone ragioni per ritornare ancora al Tarre e di ottenere le risposte giuste. Mentre si spera ancora di vedere una ricostruzione, adesso abbiamo soltanto la distruzione di quel poco di buono che ancora c'è e che forse può servire a quella popolazione che è rimasta nella nostra zona.